Preghiera del mattino O Dio, fa che io possa trovare in Te la forza di andare verso gli altri senza paura né egoismi, senza dividere le persone in amiche e nemiche, ma riconoscendo in ciascuna il volto di Gesù. Aiutami a stare davanti a Te per saper stare in mezzo agli altri, animato veramente dal Tuo amore. Amen